a Roma? Le dici perché sei venuto a Roma? Mi piace la città, non mi credi, sono innamoratissimo di Roma. La ragazza chi è? La ragazza che stava con te? Sono una ragazza. È vero che la mala mianese ti ha mollato completamente? Lo vedremo in seguito. Quale seguito? Perché è in seguito Valanzacchi? Perché in seguito lo vedremo? Valanzacchi! Quali sono le tue idee politiche? Le tue idee politiche quali sono? Da che parte stai? Con Fratelli lo conoscevi Valanzacchi? Non mi risulta. Non riesce a farlo assolutamente cosa. Non è che ti ha tradito? Chi ti ha ferito? Chi ti ha tradito? Ma è vero che hai detto meno male che mi hanno preso i carabinieri? Guarda, cosa pensi del tuo futuro? Perché devo scappare di nuovo? Che ti devo rire? Cosa posso fare? Non è che mi dai delle alternative valide? Io sembra che faccia niente per farmi dimenticare, quindi non mi sembra proponibile un... C'è una lettera che arriverà presto, che arriverà, in cui ci saranno nomi, date... Sì, però non cominciamo così, se no me ne va... Io a voi non ho niente da dire, insomma a me non interessa parlare con voi, non so se mi sono spiegato. E quindi allora dico o mi fate parlare e mi fate parlare e mi fate dire anche quello che devo dire, anche se è quello che non vi interessa, se è quello che non mi volete sentire dire, se no prendo e me ne vado il processo.